Ha picchiato e minacciato il fratello per costringerlo a consegnargli soldi con cui comprarsi alcolici e dosi di droga e ha continuato a farlo anche in presenza dei carabinieri a corsi sul posto dopo aver ricevuto una chiamata dalla sala operativa. È successo in località San Rocco Terravalle di Ferentino a chiamare i carabinieri un 49enne del posto esasperato dalle continue violenze e minacce del fratello che all'ennesimo rifiuto ha reagito con violenza col pendolo e danneggiando i mobili e gli arredi in casa, un lampione di illuminazione esterno dell'abitazione e il furgone della vittima. Le violenze sono continuate anche alla vista dei militari che l'hanno arrestato in flagranza di reato con l'accusa di estorsione, atti persecutori e danneggiamento.